No, no, non è questione di ricchezza o di povertà, perché se ti vuoi mangiare un piatto di pasta proprio, eh, sempre la vogliella ti devi comprare. Perché i momenti che tu hai un miliardo, che è difficile che ce l'hai, eh, perché quello ce l'ha solo chi se la può permettere, eh, si sa. Piglia l'avvocato, per esempio. Al massimo, al massimo, al posto di un chilo di pasta, si può comprare tutta la fabbrichetta, ma sempre la vogliella si mangia. Vogliello, dal 1879, la grande pasta di Napoli. Di qui a poco.